Ciao a tutti! Mi mando un bacio. Allora, oggi è un video un po' difficile, nel senso che intanto è un video richiesto da Sara, che saluto tantissimo, e mi mando un bacio enorme, 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 perché è una ragazza che poi mi scrive spesso, anche nei messaggi privati, e parliamo di un sacco di cose, quindi mi fa piacere quando poi ci sono persone che proprio mi seguono tanto, 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 e mi riempiono di messaggini carini, mi chiedono come va, come non va, e ci sentiamo anche al di fuori, quindi è come se si instaurasse una sorta di amicizia, ecco, virtuale, un po' da lontano, che poi vabbè, io e lei non siamo tantissimo lontano, però è bello, è proprio bello, mi piacciono queste cose qua. E niente, mi chiedeva se potevo fare un video, aspettate che ho perso i miei anelli, se potevo fare un video dove parlavo di come scegliere le superiori, e purtroppo lei è in questa fase qua, purtroppo perché secondo me, se fosse per me io non farei soltanto fare i tre anni delle medie e i cinque delle superiori, ma farei fare l'incontrario, i cinque anni delle medie e i tre delle superiori, perché penso che i ragazzi di terza media ancora non sanno, sono nella fase un po' non tanto bella, no? Tra adolescenza, tra non capiscono chi sono, cosa sono e cosa vogliono fare, quindi secondo me far scegliere dei ragazzini di terza media e le superiori, che è un passo importante, perché comunque riguarda poi la vita futura sia lavorativa, sia di crescita e quant'altro, quindi secondo me farli scegliere così piccoli, perché alla fine secondo me se è ancora piccoli, in quell'età lì, è proprio difficile, perché anche io ho avuto abbastanza problemi, gli anni delle medie comunque non li ricordo benissimo, anzi ricordo molto bene quelli delle superiori, cioè molto bene nel senso positivamente e negativamente quelle delle medie, perché proprio c'è della gente, ci sono tanti ragazzi maleducati, ci sono tanti ragazzi che stanno attraversando periodi brutti e non lo so, non mi è piaciuto per niente, comunque detto questo, la scelta è difficile, io mi ricordo che in terza media ci avevano fatto fare dei test, non so se ve li fanno fare anche a voi, se state anche voi pensando a cosa fare, o se ci sono online, in caso cercateli, perché mi avevano molto 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 aiutato, era una sorta di test con delle risposte multiple, dove poi sommando dei punteggi, mi indirizzavano un pochino su una scuola da scegliere, a me era molto fuori che io ero più portata per le materie psicologiche, me lo ricordo ancora, e per le lingue, ho scelto poi tutt'altro, la mia scelta, non saprei neanche come consigliarvi, io vi parlo un po' della mia esperienza e poi magari vi posso dare qualche consiglio, perché comunque dovete scegliere voi, lo so che è veramente difficile, lo so che tutti vi dicono dovete scegliere voi, dovete fare questo, non ascoltate comunque nessuno, io ho dato tanto peso ai miei genitori, e forse avrei dovuto non ascoltarli, perché comunque la mia scelta è stata abbastanza sbagliata, dico abbastanza perché è un 50-50, dovessi tornare indietro lo rifarei, però poi farei anche dell'altro, e io ho scelto ragioneria, quindi sono andata contro quello che il test aveva detto, perché comunque il test non prendetelo come oro colato, però può essere un aiuto per un pochino farvi un po' le idee più chiare, e ho scelto ragioneria, dico che ho fatto la scelta sbagliata perché a me la matematica non è mai mai piaciuta, fino a quando andavo all'elementare, sono sempre andata a ripetizioni di matematica praticamente, mi ricordo in terza elementare che al pomeriggio mi fermavo io e la maestra di matematica a fare matematica, perché non la sopportavo, espressioni, frazioni, tutte quelle cose lì, mi hanno proprio veramente fatto schifo, sempre, 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 mentre andavo molto bene nelle materie tipo italiano, scienze, mi ricordo che la mia maestra, proprio dell'elementare d'italiano, l'ho sentita un paio di anni fa e lei si ricordava dei miei temi, diceva che era una cosa che una bambina dell'elementare non poteva fare, eppure io ho sempre avuto la passione di leggere, poi vabbè, diventando grande un po' si perde, perché lavoro e manca il tempo, però comunque ho sempre avuto la passione di leggere tantissimo, di scrivere tantissimo, mi ricordo i mille diari che avevo, i mille temi che facevo, le mille storie che inventavo, quindi ero molto forte in quello, e la scelta l'ho fatta appunto un po' per i genitori, un po' perché comunque all'epoca ragioneria era la più gettonata per un ambito poi lavorativo un domani, nel senso che tu avevi il tuo diploma, era un istituto, quindi tu avevi il tuo diploma, finito il diploma ti si apriva tutto il mondo del lavoro, tutto nel senso che ufficio, piuttosto che negozio, piuttosto che qualche ditta, abbiamo fatto delle state in cui comunque la scuola ci mandava a lavorare, e quelle ditte lì poi spesso ci assumevano, ecco, quindi per la parte lavorativa vi si apre un mondo facendo un istituto, indubbiamente, dovesse tornare indietro lo farei perché appunto per l'ambito lavorativo aiuta, l'anno in cui sono uscita io era il 2009, già iniziava a esserci un po' di crisi, però comunque mi ha aiutato per lavorare anche in ufficio, sono andata a lavorare subito, ho finito a giugno, a settembre già ero al lavoro, quindi indubbiamente nulla da dire, però ho fatto fatica perché proprio la matematica non mi piaceva, in quinta si arriva a fare 10 ore di economia, l'economia è basata sulla matematica, quindi è anche vero che tanti argomenti di economia mi piacevano molto, tipo le fatture, gli assegni, le cambiali, la partita doppia, roba e così, però se già voi odiate la matematica, e fate 10 ore di economia, fate fatica ad andare a scuola, ve lo dico, cioè veramente io arrivavo che non ne potevo più proprio, sono arrivata l'ultimo anno che non ne potevo più, e ho sempre fatto i miei 5 anni, nel senso sono sempre stata promossa tutti gli anni, e sono stata abbastanza tranquilla, su quello nulla da dire, l'unica cosa che però ecco mi sono portata avanti sono state le lingue, come mi aveva detto il test, infatti ho fatto inglese, tedesco e spagnolo, poi per altre cose mie ho studiato l'arabo, e comunque sì, per le lingue mi è sempre piaciuto, però sentivo di non essere abbastanza portata, ecco perché comunque non ho fatto anche un istituto linguistico, perché a me la lingua si piace, la capisco, però il fatto di dover parlare mi manda un po' in crisi, mi ha sempre fatto questo effetto qua, quindi mi sentivo proprio non portatissima, e ecco perché non ho scelto le lingue, avrei potuto scegliere psicologia, indubbiamente sì, perché quella era una cosa che mi sarebbe piaciuta tantissimo, però la differenza è che il liceo, il mondo del lavoro non ti apriva proprio zero di porta, dopo il liceo bisognava per forza andare all'università, anche perché adesso per fare un'educatrice di asilo nido, comunque occorrono almeno i tre anni di università, e quindi io non me la sentivo, la mia idea comunque principale quando ero alle medie, era quello sì di studiare, però se poi non ce l'avrei più fatta, cioè non avresti più avuto la voglia di studiare, mi fermavo lì e ciao, e così è stato comunque, ecco che l'istituto vi può aiutare anche quello, quindi io vi consiglio prima intanto di capire quanto avete voglia di studiare, e quanto avete voglia di continuare a studiare, nel senso che comunque finite le superiori, se fate un istituto avete lo stesso la possibilità ovviamente di andare ancora all'università, invece se vi volete fermare avete in mano un diploma che viene un po' più riconosciuto rispetto al liceo, adesso il mondo del lavoro è un po' cambiato, però all'epoca veniva molto più riconosciuto rispetto a quello del liceo, quindi intanto dovete capire, se avete la possibilità, perché al giorno d'oggi poi la laurea costa veramente tantissimo, l'università, quindi se avete la possibilità, è bruttissimo da dire, perché secondo me lo studio non dovrebbe essere negato a nessuno, ma purtroppo è così, e anche la voglia, se siete un po' incerte sull'università dopo, un futuro, scegliete la scuola superiore che vi apre il più possibile il mondo del lavoro, il più possibile, io comunque ho amiche che dopo le superiori, dopo ragioneria, una è andata a fare estetica, ha studiato per estetica, l'altra ha studiato per sartoria, un'altra mia amica poi è andata all'università di psicologia, quindi ha cambiato totalmente il ramo, adesso sta lavorando come psicologa, ma si è aperto il suo studio, quindi comunque non è che voi fate l'istituto lì e poi vi dovete fermare, potete anche totalmente cambiare scuola, come la maggior parte dei miei compagni alla fine hanno fatto, perché anche un amico che lui è uscito l'anno prima di me nel 2008, lui è andato a fare subito risorse umane all'università, e adesso invece sta facendo l'istruttore di palestra, perché comunque ha anche l'ambito di lavorare da parte dei commercialisti, come segretari, impiegate all'inizio venite veramente tantissimo sfruttate, si parla di 400 euro, massimo 500 euro di stipendio, dal lunedì al venerdì tempo pieno e a volte anche il sabato, ovviamente la gavetta bisogna farla, è quello nulla da dire, però insomma è un po' sottopagato quel lavoro lì, però io vi consiglio appunto di scegliere, di capire intanto cosa volete fare, nel senso non cosa volete fare nella vita, perché poi ci sono persone, aveva un'amica che lei all'elementare già sapeva che voleva fare infermiera, quindi ha fatto lo scientifico, poi ha fatto l'università e adesso di infermiera, se avete una scelta così sicura, portatela avanti al 100%, anche se non vi sembra possibile, ma fatelo, ascoltate quello che avete sempre desiderato da fare, anche se eravate piccoline, e se no vi consiglio di scegliere la scuola che vi porta in assoluto, poi ha maggiori possibilità di lavorare, anche se magari tante materie non vi piacciono, come è successo a me, stringete i denti, stringete i denti e andate avanti, e ovvio che se di ragioneria non vi piace la matematica, non vi piace l'informatica, non vi piace l'economia, non vi piace questo, non vi piace quell'altro, non potete fare una scuola così, se comunque la matematica è diversa dall'economia, ovviamente l'economia alla base ha la matematica, però è oltre, è anche altro, e quindi se già avete il pallino che vi piace la matematica, però siete indecisi tra un liceo scientifico e un istituto tecnico, come quello di ragioneria, fate ragioneria, se vi piace la matematica fate ragioneria, perché rispetto allo scientifico vi apre più porte, le materie di studio poi comunque cambiano, sono diverse, però nell'ambito lavorativo vi si aprono più porte, e potete andare a lavorare dopo senza fare un'università, la scelta è veramente, veramente difficile, so che adesso ci sono aperti più indirizzi, diciamo all'epoca mia, c'erano proprio pochissimi indirizzi, e stop, tipo c'era, mi ricordo il San Micheli, che facevi economia aziendale, con le lingue, oppure economia aziendale con psicologia, so che adesso invece si è aperto anche un altro mondo, quindi fatevi aiutare anche da quegli indirizzi lì un po' particolari, come me, se vi piace ragioneria, però avete anche la possibilità di fare l'indirizzo, cioè se vi piace psicologia, quindi avete possibilità di fare ragioneria con l'indirizzo di psicologia, fatelo, io all'epoca comunque a scuola, avevo fatto dei corsi, la nostra scuola ci dava la possibilità di fare dei corsi in università, io avevo fatto psicologia, avevo seguito psicologia, e sono andato avanti con psicologia, mi è sempre piaciuta psicologia, però ecco, se ci sono queste possibilità di scegliere questi indirizzi, scegliete l'indirizzo che vi piace, però scegliete anche la scuola che vi aiuti a lavorare, è difficile, io veramente non saprei come aiutarvi, nel senso che è veramente, la scelta è difficilissima, sappiate anche che comunque bene o male il biegno, i primi due anni sono un pochino uguali per tutti, quindi ecco che comunque c'è la possibilità di cambiare scuola poi in terza, dovete fare degli esami, però piuttosto che state lì proprio contro voglia, cambiate scuola, non succede niente, non perdete gli anni, anche se dovesse succedere che un anno va perso, non muore nessuno, ecco, ma mi raccomando fate la scelta giusta o la più giusta possibile per un domani vostro, quindi scegliete quello che vi piace e quello che vi può aiutare a lavorare, e cos'altro vi posso dire? È difficilissimo, non c'è altro da dire, veramente è una scelta difficile, io appunto mi ero basata su questo test, quindi fateli, se ci sono fateli, 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 non prendeteli come oro colato, ma vi possono veramente aiutare un pochino sull'indirizzo che vi, vi può aiutare un domani, non saprei neanche io cosa direvi, veramente è un argomento molto molto difficile, comunque qualsiasi domanda voi avete, abbiate, meglio che vado, mi sa che è meglio che torno a studiare italiano, comunque qualsiasi domanda voi lasciatemi un commentino sotto che, se posso vi aiuto, quantomeno vi racconto della mia esperienza, ecco, questo è quanto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.